Quello che cerco io in una banca, sì cerco una banca che mi aiuti sicuramente nello sviluppo perché come imprenditore guardo avanti e voglio la crescita, una banca che capisca le ragioni per cui l'azienda investe, quindi per esempio gli ultimi investimenti in tecnologia che ci hanno permesso di differenziarci rispetto a tutti i competitors, in questo senso sono stati appoggiati dalla banca del credito cooperativo.